Il miglior titolo di Giovanni, venite a vedere questo film che ci siamo fatti un culo di sì per farlo. Musica Di qualcosa Giulia No no, le parole sono superflue, i fatti contano. Si vede tanto dalle scene. Musica 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 Buongiorno Che palle ripete sempre le stesse scene. Eh vabbè. Inattenti Alla fotografia Rossi Lenni. Non so fare o poi si fa la cosa. Cazione Musica 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 Però è una grandissima regista dobbiamo dirlo. Yeah. Ieri è stata vera. Ieri è stata vera. Sì? Sì? Ecco, stai facendo il backstage. Guarda. Sì? Ecco, stai facendo il backstage, guarda. Sì? Sì? Ora sì, ora c'è un'accessione sessuale. Sì? Sì? Davvero? Perché non ha lavorato con più o presto? È l'unico modo per farlo vedere. Non te l'ho mai raccontato. Un momento era avuto un grande successo italiano dove tutti hanno fatto fredere che un paese intero è macellario. E' un panettino. La macerata è un film porno. E' bellissimo. E non era vero l'urda, no? Queste pirle di saggezza sempre di Jacopo. Come? Niente. Le pirle di saggezza. No, e sono pirle di saggezza. No, e sono pirle di saggezza di Jacopo, eh? Sì? 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 Il dettaglio è lì? Guarda, io sono sempre innamorato di te. Ma cosa ho già detto? No, perché gli stavo rispiegando una volta. Continuano a capirla, però questa era lì. E gli dice, mi sei sempre garbata, ti do 50 euro. Se mi fa vedere freddo. E questa lì per lì fa un po' la restia, grazie davvero. Mi fa un po' la restia, poi gli dice, se va bene, accetto, e questo gli da 50 euro. Gli dice, guarda, ti do l'altro 50, se mi fa vedere anche il resto. Gli do l'altro 50, fa vedere anche il resto, è tutto contento, eh? Va via, torna il fidanzato di lei, si vede nella ripresa e gli dice, oh, ho trovato Pino per la strada, mi ha detto che ti ha reso i 100 euro che gli avevo prestato. Ma si sono da quanti, almeno? Alla sua fidanzata. Giovanni! E' finita Giovanni! Oddio! Corri dimmela! Aiuto! Se vuoi lo faccio però... E si discuteva di fatto che in realtà è una novella di Boccaccio. Linda salutaci prima che finisca la scritta. Que' disperazione! Ma in francese! Que' disperazione! No, pensi, vabbè, pensi di te. Eh, aspetta, pensare di cinema. No, perché questo devo lasciare lì. No, io te lo so. Però non lo fai. Fammi sentire come ti fa lì dentro. Ora, ora... Ora Giorgio, tu vedi? Vedi? Vai! Certo che... A sfilare il microfono te, è vero. E' un'arma ninja. Si! E' un'arma? E' un'arma, si, è un'arma. Grazie a caribaldi. Tu la svegliai tutti stamattina.